Abbiamo simulato lo sparring, una simulazione proprio di un autentico match, di un reo match di kickboxing in questo caso e vediamo che forzano queste tecniche dosando anche la forza, potremmo dire perché vogliamo avere un'escrizione, però molto realistica comunque come... Buongiorno, 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 buongiorno In questo caso vediamo degli scambi di low kick e di calci medi e ancora una combinazione di box, seguite facciamo un calcio low kick che per tutto è calcio basso, prendiamogli la combinazione, non ci provo a scoperti E qui la presa sulla gamba che è tra l'altro regolare per quanto riguarda l'offe meradese, dobbiamo afferrare il calcio non passare per proiettarlo a terra Tutto un'altra combinazione di box, insomma, una combinazione di queste molto spettacuali che state venendo Adesso fatte da due atleti, comunque, i confessionisti, i confessionisti, con il governo di box, tra l'altro, ma... Di livello mondiale, per le proprie Qui una ginocchiata, ecco, questo è il classico della mostra grandese, avete visto, si chiama flinch, viene affamato dall'avversario e si appassa la testa per portare il colpo di ginocchio Un'altra combinazione Un'altra macchina di recupero Comunque, c'è una grande... Consumo energetico per poter fare questo tipo di attività Adesso vediamo che si è riuscita, ma non c'è da... Al futuro di noi Se vi siederanno, come tra l'altro, la macchina, che dobbiamo scoprire da 8, o subito dopo Adesso troviamo ancora l'altra combinazione E qui, ancora un caso, tra l'altro, la pella di Monta, che era un posto subito con una maniera del pugno Adesso, come ricordavo, prima di Monta, è una fuggile E... Di livello internazionale Sì, posso essere un quarto match di box di tutti lato Quindi, possiamo pensare Tra l'altro, nello sparring del campione mondiale E il Superman di... Bayer Il tedesco Bayer Se prosegue intanto... L'esibizione di un calcio Ho portato poi una ginocchiata Un calcio interno Che ci sono matchi che... Potete immaginare per essere gli altri A piena potenza Durante un incontro Veramente devastante E poi, tra l'altro, il 29 di novembre Amato è stato uno dei più grossi cadavere europei Che è visto proprio... Tra poco, come vi parlavo prima Di questo studio mondiale Proprio il punto dei milioni di esponenti Del mondo della tecnologia A porto, comunque, che sta prendendo la vita Una grande... Difusione In questo periodo Molte delle manifestazioni Soprattutto molte delle salette Dove si può praticare abitualmente Adesso abbiamo una stagione di colpi Tra l'altro, adesso... Magari ci saranno a vedere Un po' di pitch prolungato Che è una classica tecnica Ovvio La inattesa Adesso abbiamo un modo di vedere Come si svolge Questo tipo di compagimento Che è, ovviamente, Calci pugni Ma c'è anche quello di questa parte Di lì Di durante gli incontri Dove si può operare l'avversario Anche il fatto di quello di un cattro Che è portato sui Poi di ginocchio Al porto Qui vediamo un massimo Le coste di una rica Che è stato male Le diamo Ancora un'altra recominazione Intanto direi che possiamo vicinarsi anche alla macchina Intimamente Quello momentale Di scoprire la Grazie 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 Grazie